1, 2, inizia il primo round. Alla canna vada avanti mio! Alla canna vada avanti mio! Vada tutta forza! Vada avanti mio! I'opera ai dentro! Sì, bene, riprovati! Buon momento, sempre! Puta in dentro, condivido il direttivo! Più veloce sempre! 1, 2, ok! Ok! Ok, bravo! Stia quando manca un minuto. Ok, bravo! Il primo e l'altro! Il primo e l'altro! Ok, bravo! Vai avanti mio! Forza! E il patrò dopo! Non lasciatelo far via! Lì! Lì! Ancora! Puttali anche il direttivo destro dopo! Miro a Pegatone! E fuori a sinistra! Bene! Meli! 2, 2! 2, 1! 1, 2! 1, 2, 2! 1, 2, 1, 2! Lì! 1, 2, 1! 2, 1, 2! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.